È stato dunque prorogato il servizio della Regione per i tamponi gratuiti? Sì, proprio questa mattina ci è arrivata una circolare che indicava che ancora per una settimana ci sarà la possibilità da parte delle farmacie di effettuare i tamponi a carico del sistema sanitario regionale. Attendiamo nuove disposizioni per la fine della settimana. Quanto poi verrà a costare il tampone per l'utente? Il prezzo fissato su base nazionale è di 15 euro. Nella nostra farmacia applichiamo uno sconto, quindi verrà qui 10 euro. Salvo ulteriori proroghe, dal 17 ottobre anche in Puglia non si potranno più fare gratuitamente i tamponi di controllo della positività al covid in farmacia. Restano comunque garantiti gratis quelli dalle asle nei centri e nei distretti e dalle strutture sanitarie private convenzionate. La Puglia è l'unica regione in Italia che dopo il 31 dicembre continuava a garantire tamponi gratuiti anche in farmacia, ma presto il servizio, costato circa 13 milioni di euro, verrà interrotto. E questo accade in un periodo in cui la curva dei contagi covid è risalita con il rischio che un soggetto con sintomi non gravi, sapendo di doversi sobbarcare il costo di almeno due tamponi, quello di accertamento e quello di controllo, pari a circa 30 euro, eviterà di andare in farmacia o fare la fila nel punto asle magari in un proprio vicino. Resta pur sempre la possibilità di acquistare un test rapido da effettuare a casa in autonomia. Nella nostra farmacia costa 5 euro. C'è grande affluenza ancora per i tamponi? Purtroppo sì, purtroppo sì. Noi qui in farmacia li vendiamo a 4,90 euro il pezzo, 6 test al giorno mediamente.